Violente e rissose due giovanissime bulle padovane questa volta però si sono spinte oltre arrivando a rapinare un supermercato in centro. Sara e Giulia, 19 e 23 anni, ieri pomeriggio verso le tre sono entrate in questo market di Corso Milano. Con loro c'era una complice, ancora minorenne. Prima hanno rubato cosmetici e profumi, circa 30 euro di prodotti. Poi, bloccate alle casse dal titolare, hanno dato in escandescenza afferrando l'uomo per il collo e colpendolo a pugni e calci sullo stomaco. Non hanno risparmiato nemmeno la commessa a cui hanno tirato i capelli. Il titolare avrà tre giorni di prognosi. Le ragazze sono state fermate solo all'arrivo dalla volante della polizia che le ha arrestate. La minorenne è stata portata a Treviso, mentre per le due maggiorenni sono stati disposti gli arresti domiciliari, tramutati poi dal giudice con l'obbligo di firma. Non è la prima volta che le due ragazze maggiorenni finiscono nei guai. Ad aprile, in un solo pomeriggio, avevano importunato dei passanti in corso del popolo, aggredito senza motivo un'anziana alla cappella degli Scrovegni e preso a borsati i controllori del treno dove erano salite.